Era il 20 giugno del 2005, in uno stadio strapieno e in ogni ordine di posto il Gela conquistò la C1 battendo per 1-0 ai supplementari la Cavese, segnò Daniele Unnemi e fu festa per tutti. A distanza di 11 anni le due squadre si rincontrano. Domani in terra campana il Gela del tecnico Pietro Infantino affronterà una formazione che ambisce al salto di categoria, una sfida che promette spettacolo. Ricordo quel fatto che quando il Gela affrontò la Cavese è stata una bella esperienza, nel senso che io ho seguito sempre il Gela da quando me ne sono andato e ora ci ritroviamo di nuovo là, sicuramente la cosa è diversa, loro sono secondi, noi siamo terzi e sicuramente ce la giocaremo. Per la gara di domani mancherà l'attaccante ucraino Kosovan squalificato per un turno dal giudice sportivo, per il resto sono tutti disponibili, si affrontano seconda contro terza in gradatoria, due squadre in ottima salute. Tre vittorie consecutive, sette gol fatti e nessuno subito. Ma io credo, ma io non è che ho paura degli avversari, io ho paura della mia stessa squadra, se è la mia stessa squadra in settimana vedo che non sta così, già mi preoccupo, perché il problema non sono gli altri, siamo noi. Tornando alla partita domenica prossima a Cava, cosa temete della formazione campana? La Cava è forte, punta per vincere il campionato, noi siamo là, giustamente ce la giocheremo fino alla fine, però il nostro obiettivo è far divertire la gente, divertirci noi e poi tireremo le somme più là. Ma quando si parla di divertimento si parla anche di puntare in alto? Ci divertiamo, io ho degli obiettivi nella mia vita, ho sempre fatto così, ho tre obiettivi nella mia vita, il primo è raggiungere subito la salvezza, il secondo è se siamo là ce la giocheremo, è normale, è da stupido dire di no, perché se siamo là io me la gioco. E il terzo? Il terzo è se si vince vinciamo questo campionato.